Il gioco che vado a proporvi oggi si fa con 4 carte rosse e 4 carte nere. Vado a prendere le 4 carte rosse e le vado a mettere così sul tavolo, mentre lascio le nere in mano. Vado a prendere una carta nera, ad esempio la prima, il 6 di picche. Basta un attimo che il 6 di picche diventa una carta rossa. Vado a prendere altre 2 carte nere, per esempio queste due. Basta ancora un attimo che un'altra carta nera si trasforma in una carta rossa. Vado a prendere ancora un'altra volta una carta nera, per esempio questa. E ancora una volta, in un attimo, le due rimanenti carte nere diventano anche esse rosse. Quindi voi, naturalmente, adesso immaginate che le carte nere si trovino qui. Sì, ma vi sbagliate. Infatti adesso avviene qualcosa di veramente impossibile. Con uno schiocco di dita, il 6 di quadri si trasforma nel 6 di fiori. E poi tutte e 4 le carte rosse diventano tutte e 4 carte nere. Tanto che qui, dall'inizio, sul tavolo, avremmo avuto le 4 carte rosse. Questo era Repro, Color, Retro. Grazie.